Lei ancora non lo sa, ma sta per arrivare una sua amica. Non so perché, ma Giuno odia quando la riprendo. Comunque oggi arriverà Ariel, la cagnolina di Luciano, per giocare con Giuno. Vero, amore? Piano. Piano. Sì! Ciao, ragazze! Vieni! Ciao! Ciao! Eccola! La mia nipotina, la mia nipotina! E mia figlia, mia figlia, mia figlia, mia figlia! Oh, si sono già abituate, basta! Foto pre-pranzo. Ho preparato questa pasta fredda, con questa vista. Buon appetito! Poi in tasco di insulare. Si sono bloccati i cani. Sì! Guarda! Seduta. Seduta. Bravissime! Aspetta! Brava! Brava! Ma quanto siete belli! Ma sei bellissima! Siete pronte? Uno, due, e tre! Brava! E due! E vai! E adesso facciamo una passeggiatina. Fa caldissimo. Sembra estate. Andiamo, 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 andiamo! Andiamo, andiamo! E adesso si torna a casa. Saluto anche la mia macchinina. Perché ragazzi, io vado a casa con loro! E adesso facciamo una macchinina.